È una proposta di legge promossa dai radicali italiani, dall'associazione Luca Cuscioni e da tante altre associazioni che in tre mesi cercherà di raggiungere 50.000 firme per portare in Parlamento una proposta di legge per la legalizzazione della marijuana, della cannabis. È Angelo Rossi, storico esponente dei radicali aretini, ad oggi anche consigliere comunale all'interno della maggioranza di centro-destra a portare avanti la raccolta firme per la proposta di legge di iniziativa popolare per regolamentare la produzione, la vendita e il consumo della cannabis e i suoi derivati. Nulla da eccepire dal punto di vista formale ed etico ma indubbiamente singolare dal punto di vista politico. È una proposta di legge che si sviluppa dalla regolamentazione della produzione a quella della distribuzione, a quella della vendita e quella del consumo. Questo prevede innanzitutto una depenalizzazione di questo reato ma soprattutto permette di poter far emergere da un sommerso dove c'è il nero e l'illegalità e che è gestito integralmente dalle mafie di portarlo a essere un settore comunque produttivo per l'economia perché nel mondo dove è stata legalizzata, specialmente negli Stati Uniti, penso al Colorado, addirittura stanno restituendo i soldi delle tasse ai cittadini grazie agli introiti di questo tipo di legalizzazione. E tra l'altro tutte le statistiche indicano che dove c'è stata la legalizzazione c'è stata anche una diminuzione del consumo. Sicuramente un successo per il primo step di questa raccolta firma da Rezzo. Sicuramente c'è stata una risposta enorme da parte degli aretini perché noi abbiamo in pochissimo tempo, in pochissime ore addirittura finito, terminato completamente tutti i moduli che avevamo a disposizione per la raccolta delle firme. Qualche piccola polemica l'ha associata il regalo, un semi in omaggio per i primi 150 firmatari di questa proposta. Ma quello era un semplice omaggio, ricordiamo che i semi, i semi sono assolutamente, il commercio dei semi è assolutamente legale per fini collezionistici. La raccolta firme però non si ferma qui, proseguiranno questi appuntamenti? Sì, da qui ai prossimi tre mesi, tanto durerà questa campagna di raccolta firme, noi prepareremo dei banchini e delle situazioni nelle quali continueremo questa raccolta.